A cinque giorni dal definitivo declino dell'ex Avellino ormai non è rimasto più nulla. I primi calciatori che hanno trovato ufficialmente una nuova sistemazione sono per il momento Ngawa Falasco al Perugia, Curado Crotone e Di Tacchio alla Serenitana. Il Perugia continua a fare spese in casa bianco-verde perché oltre ai due sopracitati sembra essere sulle tracce di Migliorini, ricercato anche dalla Cremonese e vicino a Di Gregorio. Degli ex Avellino il più ricercato è Benjamin Mokulu che messosi in mostra in ritiro è stato contattato da Cremonese, Livorno e Brescia. Sirene Di A invece per uno Wilmot che sembra essere vicinissimo al Genova, anche se ha mostrato un certo interesse per il giovane belga anche il Frosinone. Resteranno in serie B Sufian Bidaoui che molto probabilmente nei prossimi giorni firmerà con il benevento di Bucchi e Matteo Ardemagni che oltre a Foggia si è fatto avanti per lui prepotentemente anche Lascoli. In conclusione l'attenzione va tutta sui due ex capitani, entrambi hanno firmato con la casertana eliminando così ogni minima possibilità di romantiche decisioni. Castaldo un triennale a 180.000 euro, mentre per D'Angelo si parla di un biennale a cifre poco meno inferiori. Tutti gli ex dunque andranno via dall'Irpinia poco male perché l'Avellino è pronta a ripartire e lo farà senza timore, incominciando da zero.